Salve a tutti ragazzi, sono Zwillix ed oggi sono qui con un nuovo video di GTA Online in cui mostrerò ben 4 glitch. Tutti i glitch li potete fare da soli tranne uno, ovvero il glitch della catapulta, e per fare quel glitch vi servirà un amico. Cominciamo subito con il primo glitch. In questo glitch vi mostrerò come utilizzare il creatore di missioni nonostante sia stato bloccato dal programmatore del gioco. Ecco, con questo metodo vi mostrerò come sbloccare l'opzione per utilizzare appunto questo creatore. Cominciamo subito con il glitch. Per prima cosa dovete andare su online e poi creatore. Quindi quando avete avviato la modalità creatore dovete andare su crea diffmatch, e quindi quando siete su crea diffmatch dovete cliccare su diffmatch. Quando sarete nel creatore di diffmatch dovete spegnere il vostro modem oppure sconnettere il vostro cavo Ethernet. Potete disconnettervi in tutti i modi tranne tramite la disconnessione dell'account, quindi ricordatevelo. O staccate il modem oppure staccate il vostro cavo Ethernet dal vostro modem router. Quindi quando avete fatto ciò dovete andare su esci e una volta che avete cliccato esci tornerete indietro e dovrete andare sull'opzione invisibile in fondo, quella che vedete nel video. Quindi ci cliccate e sarete su questo creatore speciale. Ricordatevi che potrete utilizzare solamente il paracadutismo, il creatore di smatch veicoli e il creatore di smatch a squadre veicoli. Inoltre ricordatevi che purtroppo non potrete salvare le attività, però potete semplicemente testarlo. Se vi interessa ho parlato nei maggiori dettagli di questo creatore contenuti che ricordo ancora in fase di sviluppo. E il video sulle informazioni di questo creatore emissioni che uscirà nelle prossime patch potete trovare appunto queste informazioni in descrizione di questo video. Passando al secondo glitch vi mostrerò come diventare invisibili. Allora, per fare questo glitch serve un requisito, ovvero avere un garage pieno, non importa con quale veicolo. Quindi quando voi praticamente entrate con un'auto e vi dirà la scritta garage pieno, nella scritta garage pieno dovete semplicemente premere allo stesso tempo B e A oppure cerchio ed X su PlayStation 3. Se avete fatto correttamente il glitch vedrete il vostro personaggio che flutua nell'aria con la texture del veicolo appunto invisibile. Praticamente gli altri giocatori nella sessione vedranno sia il vostro personaggio invisibile che il vostro veicolo. L'unico problema è che praticamente se avvolontanate troppo dal vostro appartamento il veicolo, la texture del veicolo comparerà. Però comunque sia il vostro personaggio rimarrà sempre invisibile. Tra l'altro se non sbaglio dovreste anche essere invisibile al radar, però di questo non ne sono sicuro. Comunque sia potete benissimo provare. Passiamo al terzo glitch. Praticamente il terzo glitch sarebbe un glitch dove la vostra auto verrà catapultata in area. Per prima cosa dovete recarvi la posizione che vedete nella mappa del video. Quindi quando siete lì praticamente il vostro amico dovrà posizionarsi nel cancello che vedete nel video con appunto la stessa posizione che vedete nel video. Quindi una volta che il vostro amico avrà fatto ciò o meglio si sarà posizionato per bene nel cancello dovete andare ad una velocità alta verso il cancello. Quindi praticamente la vostra auto diciamo che si buggerà e volerete in cielo con un'altezza assurda. E avrete appunto eseguito correttamente i glitch. L'ultimo glitch che vi volevo mostrare è quello di abilitare la modalità passiva nonostante abbiate una taglia. Anche questo glitch è molto semplice. Quando praticamente qualcuno vi ha apprezzato una taglia prima dovete andare su online, opzioni ed impostare il luogo di rientro come garage. Cercate una nuova sessione una volta impostato il luogo di rientro e quando sarete esponati nel garage dovete premere back su Xbox 60 o select su PS3. E quindi abilitare la modalità passiva cosa che non potreste fare. Quindi una volta fatto ciò avrete la modalità passiva nonostante abbiate una taglia e ovviamente nessuno vi potrà uccidere. Poi ovviamente potrete anche rimuovere la modalità passiva. Però ricordatevi che la taglia ricomparirà. Potete comunque sia fare questo glitch tutte le volte che volete però ricordatevi sempre di cambiare sessione ogni volta e di avere sempre come luogo di rientro il garage. Detto questo per favore lasciate un mi piace. Ci vuole un secondo in due secondi a cliccare quel bottone blu. Lasciate un mi piace alla pagina Facebook se vi va la trovate in descrizione. Commentate se avete domande, dubbi, richieste e cercherò di rispondere il più velocemente possibile. E iscrivetevi per altri contenuti di GTA V. Ah sì, e se volete entrate anche nella mia crew. Tutti i link li trovate in descrizione. Da Zetawillix è tutto. Al prossimo video.